Lucia mi ha votato, Francesca mi ha votato, Verusca, pure Luca Civetta, Fabrizio, e Lorell? Pure Lorell, sì, figurati, dopo Gino Papesco, Cinzia, che si è portato pure i parenti da giù. Mi sei morti. Poi abbiamo Salvini, che tra l'altro mi ha riembito di maglietta. Ti do racconta questa qua. Zomba è venuta a casa mia, con sta scatola piena piena di maglie, e si è fatta sette piani di corsa a piedi. Bastavano gli ufficiali a portare le magliette a questa, c'è stata l'ascensore. Ti do dire, è scemo, però è veloce. Grazie.